Ciao a tutti, mi chiamo Marco Erba, sono un insegnante, sono uno scrittore e vi parlo dal mio studio, per usare un eufemismo non troppo ordinato, ma in questi tempi, ahimè, di didattica a distanza, chiedo venia e conto sulla vostra comprensione. Ci tengo tanto a invitarvi per il prossimo venerdì, il 12 marzo, alle 20.30 nella Chiesa dei Santi Martiri di Legnano per discutere insieme di cosa vuol dire essere insegnanti e quindi anche essere genitori in questo tempo di fatica, di crisi, ma che può anche offrire una grande occasione per ripartire e rilanciare. Abbiamo intitolato questo incontro, questo quaresimale, insegnare non basta. Io ci credo tanto, credo davvero che un insegnante non sia un inflessibile arbitro che deve far applicare delle regole oppure fissare l'altezza dell'asticella da saltare per i suoi studenti, ma credo che un grande insegnante debba essere un allenatore che sta dalla parte dei ragazzi e degli atleti che allena alla vita. Quintiliano, celebre autore latino, diceva che un insegnante deve essere un pochino come un padre per i suoi allievi e per questo insegnare non basta. Ci vuole qualcosa di più, che è l'amore e che è il dono di sé. Proveremo a riflettere di questo anche attraverso alcune immagini del Vangelo, che è un bellissimo testo che offre grandissimi spunti anche educativi a tutti noi, oltre che ovviamente il testo sacro per eccellenza per noi cristiani. Vi aspetto quindi venerdì sera, ore 20 e 30, perché insegnare non basta e proveremo a rifletterci tutti insieme. Ciao e grazie.